Presto, molto presto, il Parco Nazionale del Gargano avrà il suo nuovo presidente. L'ho detto questa mattina a Foggia il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine di un convegno presso l'Ateneo Dauno. Priorità a chi ama, conosce e tutela la natura. Lei sa benissimo che la presidenza di un parco, come dice la legge 394, è insieme alla presidenza della regione, cioè il Presidente Emiliano, e il Ministro dell'Ambiente si incontrano, peraltro io ho sentito ieri il Presidente Emiliano sull'argomento, ci dobbiamo vedere, le cose per telefono non si dicono. A me l'importante, guardi, io lo dico sempre con la massima trasparenza, io non faccio questioni di colori, di appartenenze, di steccati, io stesso sono un tecnico, tra virgolette. Bravo, esatto, quello voglio dire. Allora a me interessa se uno è di destra o di sinistra, a me interessa se sa fare il suo mestiere o non lo sa fare. se ha un curriculum adeguato e, come si vuol dire, di livello, perché poi le appartenenze, a me basta che appartino alla natura, come si vuol dire, che tutela la natura, poi tutto il resto non me ne può fregare di me.